Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Tragedia a Sanstino di Livenza, dove un giovane centauro di Caorle ha perso la vita in seguito a uno sbandamento con la moto, finendo violentemente contro un platano. L'incidente si è verificato oggi, intorno alle 13.30, lungo la strada metropolitana 59 che collega Sanstino a Caorle. La vittima è Edoardo Bernardi, un ragazzo di 19 anni originario di Sanstino. Nel frattempo, la madre è stata ricoverata a causa di un improvviso malore. Il giovane, alla guida della sua moto, stava percorrendo la strada in direzione del mare. Nei pressi dell'abitato di Contarina, vicino alla salute di Livenza, ha purtroppo perso il controllo del veicolo. Non è stato possibile per lui evitare l'impatto con uno dei numerosi platani che costeggiano la strada, provocando conseguenze devastanti. Dopo l'incidente, è stato immediatamente lanciato l'allarme al 118, che ha inviato i sanitari di Caorle, chiamando anche l'elicottero del SUEM. Sebbene non sia stato necessario il decollo, i soccorritori hanno constatato purtroppo il decesso del giovane a causa dell'impatto violento. La strada metropolitana 59 è stata chiusa temporaneamente per consentire alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi necessari. Il soccorso stradale Vaccaro è intervenuto per rimuovere il veicolo coinvolto, mentre la viabilità è stata deviata su percorsi alternativi. La terribile notizia ha causato un improvviso malore alla madre del giovane, attualmente ricoverata.